Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di TRMH24. E' stato convalidato il fermo per Taulan Malai, il panettiere che ha confessato l'omicidio della figlia Jessica e del presunto amante della moglie a Torre Maggiore nel Foggiano. Tafta Malai, la donna sopravvissuta alla strage, ha parlato ai microfoni di una TV albanese, sua terra d'origine, raccontando i momenti della mattanza. Mio marito fino a due anni fa ha molestato sessualmente nostra figlia. Queste le parole della donna. Ascoltiamo. Ha usato un coltello a serramanico di 18 cm di Taulan Malai per compiere la strage nella quale ha mortalmente ferito la figlia 16enne Jessica e il vicino di casa Massimo De Santis. E' quanto scrive il GIP del Tribunale di Foggia nella sentenza di convalida del fermo nei confronti dell'uomo che ha confessato la mattanza. A chiamare i soccorsi è stata la moglie dell'assassino, Tafta Malai, sopravvissuta all'aggressione perché difesa da Jessica. La notte, tra sabato e domenica scorsi, dopo aver ucciso sul pianerottolo di casa il presunto amante della moglie, raggiunto lì dopo aver scoperto di notte Tafta a chattare con lui, il 45enne Talant Malai ha spiegato agli inquirenti di essere andato in camera da letto dove c'era mia moglie. L'ho colpita e nel mentre è entrata Jessica, la quale voleva proteggere la mamma. Allora io ho colpito anche Jessica e l'ho uccisa. Mancomi ero reso conto che fosse lei. Jessica purtroppo si è trovata nel momento sbagliato. Dal letto loro due sono scappate in cucina dove ho continuato a colpirle. E' un passaggio della confessione di Malai, nei confronti del quale il quadro indiziario si è consolidato grazie alla visione dei filmati delle telecamere presenti in casa, che hanno ripreso le scene in cui l'uomo ha colpito con chiara volontà omicida, si legge nella sentenza sia la moglie che la figlia. Malai ha ripercorso quanto accaduto la notte tra sabato e domenica. Il 45enne ha anche raccontato di aver filmato la scena del crimine, subito dopo essersi reso conto di ciò che aveva fatto. Il video è circolato sui social e inviato dal presunto assassino a un amico e è stato messo agli atti. Guardate qua, questo è l'omicidio, queste sono. Ti ho perdonato già una volta, basta. Dov'è il figlio? Guarda, le ho accoltellate e le accoltellerò ancora. Queste le parole di Malai pronunciate nel video. Poi aggiunge, buonasera, mi chiamo Taolan Malai. Lo vedete questo qua? Dice, inquadrando il corpo di De Santis. Questo è l'italiano. Ecco, questo è. E l'ho perdonata una volta con il primo. Questo è il secondo. Guardate, l'ho accoltellato io da solo. Da solo. Gli ho uccisi tutti e tre. Anche la ragazza. E restiamo su questo terribile caso. Massimo De Santis è stato ucciso con 23 coltellate. La sedicenne, Jessica, con sei fendenti, tutti al torace. E quanto accertato dall'autopsia compiuta ieri nell'Istituto di Medicina Legale di Foggia sui corpi del barista 51enne e della ragazzina uccisi domenica scorsa a Torremaggiore. E ancora la cronaca. Un ventenne di origini albanese è morto nel tardo pomeriggio di ieri in seguito ad uno scontro tra la sua automobile e un tir avvenuto sulla strada provinciale 240 che unisce i comuni di Noicattaro e Rutigliano. Siamo nel barese. Per cause ancora da chiarire, i due mezzi si sono scontrati frontalmente. Nello schianto l'auto è finita nelle campagne a bordo strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, polizia locale di Rutigliano e vigili del fuoco. I soccorritori del 118 invece hanno potuto solamente constatare il decesso del ragazzo mentre l'autista del mezzo pesante è rimasto illeso. La strada, bloccata dal camion lungo l'intera carreggiata, è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. E cambiamo adesso argomento. Siamo al caro affitti, anche a Bari, in tenda davanti all'università. Oggi è atteso un flash mob di protesta. Vediamo. La protesta studentesca partita da Milano sui caro affitti è arrivata anche a Bari. Vediamo come gli studenti baresi si sono organizzati. Anche qui oggi a Bari, primi nel sud Italia a protestare contro la situazione del caro affitti che ormai è devastante, che dal periodo pandemico in poi vediamo soltanto peggiorare. Noi chiediamo una cosa molto semplice, ossia l'introduzione di un reddito studentesco. Questo reddito studentesco, che è una proposta che come cambierotta a livello nazionale stiamo portando avanti, consiste nel tassare i profitti privati che le aziende private traggono attraverso tirocini e collaborazioni e contratti di ricerca con l'università e sullo sfruttamento anche della forza lavoro, cioè noi studenti, in modo tale che attraverso quella tassazione del profitto possa essere redistribuito sotto forma di reddito a tutti gli studenti e le studentesse non solo dell'università di Bari ma dell'università di tutta Italia. In questo modo, secondo noi, il diritto allo studio può essere realmente garantito. Che farete stasera? Rimanete qui e dormirete qui fuori all'università? L'idea è quella di rimanere qua fino a domani mattina alle 12 e cercare di esistere anche all'intemperie del tempo che stiamo vivendo. Come vi siete organizzati? Sì, ci siamo mobilitati alla luce di quello che sta avvenendo nelle altre città italiane e per solidarietà tutti gli altri studenti che vivono questi problemi che viviamo noi siamo venuti qua con le tende per farci vedere dalla città e far vedere che anche noi esistiamo. La protesta continuerà anche questa mattina con il flash mob organizzato dagli studenti alle ore 12 in piazza Cesare Battisti. E siamo a Bari, processo nei confronti dell'imprenditore Donato Mottola accusato di aver elargito tangenti all'ex capo della protezione civile della regione Puglia, Mario Olerario. L'accusa ha ascoltato Roberto Polieri, referente della sezione Opere pubbliche e infrastrutture della regione che ha rivelato la società di Mottola non aveva i requisiti per aggiudicarsi i lavori. Vediamo. Il subappalto dei lavori di Borgo Mezzanone non andava assegnato all'admeco di Donato Mottola. La società non era in possesso dei requisiti necessari per aggiudicarsi i lavori. A dirlo è Roberto Polieri, referente della sezione Opere pubbliche e infrastrutture della regione Puglia, ascoltato come testimone dell'accusa nel corso del processo in cui l'imprenditore Donato Mottola è imputato per aver versato una mazzetta da 20.000 euro all'ex capo della protezione civile pugliese, Mario Olerario. Olerario è già stato condannato con rito abbreviato a 5 anni e 4 mesi di reclusione per aver intascato questa e un'altra tangente da 10.000 euro da un altro imprenditore, anche lui già condannato. Secondo il test, per i lavori, il cui importo era di 2,6 milioni di euro, era necessario un codice SOA, attestazione di qualificazione per la partecipazione alle gare d'appalto, che l'admeco non aveva. Poco importa, ha aggiunto Polieri, che i lavori siano stati fatti bene perché formalmente quella gara non andava attribuita alla società. Polieri, insieme agli altri testi dell'accusa, ha sottolineato come la protezione civile e la sezione provveditorato economato, di cui era dipendente Antonio Mercurio ai domiciliari dal 9 febbraio, fossero sprovvisti i documenti cartacei relativi a diverse gare d'appalto. Stalking contro l'ex compagna. È stato indagato il sindaco del comune Salentino di Sternatia e presidente della fondazione Notte della Taranta. Sentiamo. Il sindaco di Sternatia, Massimo Manere, è stato iscritto dalla procura di Lecce sul registro degli indagati con l'accusa di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. L'uomo, secondo l'accusa, non accettava la separazione e avrebbe fatto pressione alla donna procurandole un grave stato di ansia. Lo scorso agosto l'ex compagna, una 52enne residente in un altro comune, difesa dall'avvocato Massimo Bellini, era andata in questura a Lecce dichiarando di essere sottoposta a continue vessazioni dall'uomo e chiedendo che Manera venisse ammonito. Atto che il questore ha provveduto a far notificare al politico salentino col divieto di qualsiasi tipo di contatto. Il sindaco, avvocato, avrebbe però continuato a perseguitare l'ex compagna inviandole continuamente mail, arrivando anche a seguirla lo scorso dicembre per le vie del centro di Lecce. L'ammonimento disatteso ha fatto sì che il reato diventasse quindi perseguibile d'ufficio. Nei giorni scorsi, alle parti, è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini. Manera, dal 2013, è presidente della fondazione Notte della Taranta. Nel febbraio dello scorso anno fece scalpore un suo posto pubblicato sui social in cui avvisava i suoi concittadini della fine della sua relazione sentimentale. Ci spostiamo adesso a Foggia, dove a luglio partirà la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani per i commercianti. Intanto il Comune e la Miupuglia si dichiarano soddisfatti della risposta dell'utenza per il numero verde. Funzione il numero verde attivato a Foggia dalla Miupuglia. Operativo da poche settimane, in pratica dall'apertura del nuovo centro di raccolta, il numero verde è diventato presto una sorta di pronto intervento per il recupero degli ingombranti, alleggerendo non poco l'igiene urbana spesso inficiata dall'abbandono di materassi, mobili ed elettrodomestici in strada. Una pratica inutile ed incivile che deve essere totalmente dimenticata e relegata ad un passato remoto cittadino, afferma Vincenzo Cardellicchio, commissario straordinario del Comune di Foggia. Nella stessa nota il Comune e Lamio annunciano che partirà dal prossimo luglio la raccolta porta a porta per le utenze non domestiche. È stata infatti svolta ed aggiudicata la gara per il reperimento delle attrezzature necessarie per quasi un milione di euro. Una gara che si è potuta tenere al massimo ribasso. Le attrezzature saranno presto disponibili per la prima distribuzione dagli esercizi commerciali. È solo l'inizio di un lungo cammino di modernizzazione degno di una grande città che osa allo stesso prefetto Cardellicchio. E ci spostiamo in Basilicata nel Potentino. Si è discusso di competenze per la transazione e competitività per il futuro dell'automotive. Ieri a Melfin un incontro organizzato dal cluster lucano del comparto. Un confronto tra imprese, associazioni, università e mondo della formazione e ricerca tracciando insieme un percorso che punti a raggiungere il comune obiettivo di far trovare pronto il settore dell'automotive alla grande prova della transizione. Una sfida che si deve affrontare e vincere puntando su competenza e competitività. Si è discusso di questo a Melfi grazie al dibattito organizzato dal cluster lucano dell'automotive. Un'occasione per sensibilizzare tutti gli stakeholders sulla necessità di saper raccogliere la sfida per il territorio. Una sfida che riparte proprio da Melfi, luogo dove assiede il più grande complesso industriale dell'auto lucana grazie alla presenza di Stellantis e dell'insieme delle aziende dell'indotto. Quali sono le prospettive da tracciare oggi? Le prospettive sempre in ottica di portare qualcosa di nuovo a quello che è un po' un comparto meraviglioso che è quello dell'automotive. È chiaro che la transizione energetica noi la dobbiamo leggere come un'opportunità, una nuova opportunità consapevoli che ci sono delle difficoltà importanti da vivere nel presente e siamo anche insomma molto molto sereni dell'aspetto un po' legato a quelle che sono anche le attenzioni che il governo ha dato a questo grande territorio. Sicuramente noi come cluster Fabrica Intelligente che il nostro compito è tracciare e proprio fare questa roll map. La roll map era già pronta dal 2019. L'abbiamo riscritta partendo dal basso, partendo i fabbisogni delle piccole e medie imprese del nostro paese, dei nostri territori e guardando anche i megatrendi cosa sta succedendo. Circa 10.000 dipendenti qui a Melfi sono la Detroit italiana, se lo diciamo con un termine un po' aulico. Credo che sia fondamentale per questo territorio segnalare in tutti i modi la propria competenza, la volontà di rimanere attore, protagonista nella filiera. E questa era la nostra ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di TRMH24 e con la prossima edizione del nostro telegiornale. Buona giornata.